Ragazzi allora bentornati su Ride, oggi si comincia con un evento speciale che abbiamo finito un'altra stagione ma vi voglio dire che abbiamo raggiunto un buon livello e che da adesso in poi ci potrebbero essere al di là degli eventi che vanno avanti delle cose più interessanti da vedere come i campionati, altre sfide a squadre che quelle sono belle quindi ecco sto gioco mi sta appassionando sempre di più fortunatamente qui abbiamo il 6 o il 7 fino a 780 pp con le Naked, fino a 300 pp con queste moto sportive un po' vecchie non specifica, andiamo a vedere, moto nel garage ammissibili in entrambi i casi oh i premi 899 Panigale o la F3 800 Ducati MV, bello questo e gli altri premi? Beh oddio quell'energica a me mi fa cagare però la F3 675 è una moto da panico per la categoria mentre, ma vabbè che anche le altre non è che siano ci vogliono le due tempi, due e mezzo fino a 300 pp, dai mi ispira questa i premi sono belli in entrambi i casi, oddio qua si torna sull'RS è truccata, fino a 300 fa 278, beh non credo che possiamo diamo un occhio veloce, se vabbè dai è già agguerrito, ho fatto solo il cambio olio dai andiamo a prenderci una di quelle due moto, forse la Ducati perché poi voglio la F3 675 invece dall'altra parte per la prossima volta che poi bisogna fare una stagione intera dopo di questa andremo a vedere se c'è qualche campionato sbloccato da iniziare perché magari sono belli quelli più a punti, più entusiasmanti proprio perché c'erano i punti eccoce là qua, mancavano 15 km solo, beh allora sono stato stronzo a cambiare l'olio, non serviva pensavo di averci fatto molto di più, non vi chiudete, porca troia, grande lo scatto di un Rossi con l'Aprilia che va a prendersi anche la prima posizione ai danni di, oh oh, questa era una tamponata non era un'imbarcata perché non stavo accelerando, attenzione eh, prima persona è tosta sta pista perché ha delle curve cieche, però dai almeno, visto che la moto va, almeno ce la gustiamo un pochettino di più, attenzione a lasciare sti varchi, andiamo a richiudere subito la corda con la faccia fuori dalla pista e le ruote vicine al cordolo oh, oddio, stanno lì eh, rimangono dietro, no questi non li seminiamo, ok dai sarà una bella gara quanti giri sempre tre, che cazzo si fa da lungare le gare, vabbè che va bene perché alla fine sono più contento di fare più cose, però sinceramente io non ho proprio trovato il modo di allungare le gare attenzione l'allungo dell'Aprilia di Nurossi non sembra malvagio nei confronti degli altri attenzione qua che c'è la S eh, arrivava, bastardo, ho provato in uscita a fotterci adesso qua a destra, poi lungo rettilineo, staccatona poi destra-sinistra e si torna al traguardo, se mi ricordo bene la pista eh, sì, mi sa proprio di sì mi piace questa pista, mi è sempre piaciuta dallo scorso ride e continua a piacermi attenzione però perché qua non sarà a farmi ricordo e poi soprattutto, vabbè mamma mia, eh, ho frenato tardi ok, un po' prima, eh ho rischiato tantissimo di chiudere l'anteriore qua abbastanza morbidi e via verso il traguardo gli abbiamo dato qualche buon metro guidiamo bene adesso nel guidato 1.48.7 però da fermi si può andare giù si può andare giù con quel tempo lì adesso qua, ricucilano un pochettino probabilmente nel guidato perché la sicurezza di Nurozzi non è totale anche perché sono due spagnoli quelli che lo inseguono che qua sono a casa e si vengono ad allenare, sicuramente bello qua, col gas in appoggio cambio dall'altra parte, cattivo scollino e poi curva cieca ancora di quelle stronze arriva lo spagnolito, lo sento io la chiudiamo bene la traiettoria qua bene così eh, non aveva proprio modo di passare il furbo Nurozzi si mette in linea ecco, i garrini li sento sempre dall'esterno con l'orecchio esterno oh no, no, no non impiantarti lì madonna è proprio qua è proprio qua eh, questa gara è tutt'altro che scontata è facile occhio qui alla S mamma mia un attimo di perdita di anteriore pure qua bestiale eh dai che siamo di nuovo a rettilineo comincerà l'ultimo giro che sarà da panico però adesso sono anche più vicini quindi occhio ai motori forse col motore andiamo via eh sì andiamo via e c'è anche l'altra Piria lì che rampa sul secondo probabilmente la Piria è più veloce attenzione adesso però non voglio fare la staccata furibonda di prima e rischiosa più composto più composto è comunque lungo però bisogna ancora imparare a interpretarla bene 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 quell'ultima lì staccatona selvaggia prima della S prima del traguardo attenzione perché c'è un'altra Piria che prova a mettersi dietro quella di Nurosi in lotta con la moto di Torres era il secondo che non so cosa sia probabilmente Honda qua dietro no ma sempre troppo stretto qua attenzione perché infatti arriva errore di valutazione di Nurosi eh si è infilato si è infilato ma infatti la nostra traiettoria mira a uscire meglio e a rifregarlo un'altra volta qua occhio adesso vicini qua al cordo se non andiamo l'archi là ok ottima ottima l'impostazione sempre attenzione con i freni a non pinzare troppo perché qua la sensazione è sempre quella di bloccare è andato bene è andato bene il settore rimane dietro mamma mia l'imbarcata eccolo infatti eccolo infatti eh c'è l'Aprilia dietro c'è l'Aprilia avete visto ne aveva di più e lo ha dimostrato attenzione qui c'è l'acqua a fianco oddio 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 eh adesso forse è finita se non sbagliamo clamorosamente stavolta eh sti cazzi è finita però perché questa è Aprilia pure lei quinta nero ma chi è è il cugino stupido di Quartararo eh no lo riprendiamo in scia mamma mia occhio qua eh perché l'ultima frenatona diventa pericolosa vincano tutti e due porca merda dai dall'esterno dai dall'esterno dai dall'esterno dentro no merdaccia merdaccia mi ha fregato eh beh la sanno fare la sanno fare ok dai per fortuna come qualcuno mi aveva detto io sinceramente non l'ha saputo questa cosa basta arrivare a podio per il premio invece io pensavo che bisognasse proprio vincere e quindi già ero mezzo disperato e allora la F3 800 eh no perché poi ci pigliamo la 675 di là tra le mille non prenderò la Ducati perché ho cioè bellissima ma ho altro nel cuore quindi questa 899 Panigale mi sembra un'ottima idea adesso ragazzi abbiamo sbloccato questo campionato due tempi da fare sicuramente ecco quelle quattro gare con la RS2 e mezzo che abbiamo però visto che l'abbiamo appena usata e visto che magari poi ne facciamo direttamente due o tre vediamo quanto sono lunghe questo magari ce lo iniziamo la prossima volta e andiamo a sfidare un'altra squadra perché abbiamo sbloccato pure quella tra l'altro bella perché gli old school bikers monza è trattato di una sfida a squadre a bordo delle sportive più iconiche degli anni 90 bellissima vediamo perché tra l'altro dice moto acquistabile acquista una moto che c'è? ah ecco una moto losca però anni 90 c'è un limite scusate ragazzi fatemi fare una valutazione fino a 600 pp dal 94 al 2003 in realtà sono ammesse anche le prime 2000 vabbè e onestamente prendo un'aprilia non perché era più forte perché cambia poco ma perché per averla insomma ecco ma cos'è sta roba? non fa rumore la mia moto come faccio a guidare? no non lo fa non lo fa in nessuna maniera l'ho riavviato 40 volte è proprio boh una moto eh che cazzo solo che ci ho speso un sacco di soldi non la posso cambiare ragazzi adesso la faccio e poi faremo qualcos'altro cerco di portarla anche perché la squadra magari contando sui nostri compagni qualcosa la tiriamo fuori ma io non riesco a farla così e poi è brutta da vedere ce l'abbiamo fatta ragazzi grazie anche alla nostra squadra che fortunatamente non ci ha traditi neanche adesso è molto forte no eh non sapete cosa quella prima di merda se è veramente buggata col sound mi tocca rivendere perché non si può usare mai e quindi magari poi in quella categoria potremmo usare questa che mi piace molto piccolo aggiornamento ragazzi questa moto funziona non è colpa della moto il silenzio dell'altra gara ma proprio dell'evento in sé siamo felici eh perché questa moto è fortissima ho fatto bene a non venderla in maniera affrettata e adesso occhio perché qua ci sarà utile perché questa gara comincia a essere tosta comincia a essere abbastanza proibitiva da vincere e purtroppo mi dispiace dirlo perché mi piace tanto ma con quella Ducati lì non credo che si sarebbe potuto far nulla guardate guardate adesso con l'umpirla dietro è stupido perché quando si mette in scia e gli arriva sotto non sa spostarsi di traiettoria e non lo passa oh 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 porca vacca che gancio che ha tirato in staccata che imbarcatone siamo secondi chi è il primo che scappa così tanto oh dov'è che è sta fretta che deve andare c'è la diarrea dove vai vieni qua ahia ma è una moto come la nostra no affatto è il culo di un'onda VTR quella lì mi sembra il culo di un'onda VTR col tondo e il faretto smezzato sotto dai ragazzi concentrati però che qui appena si sbaglia poi so cazzi questa moto è un pochino pesantuccia a livello di agilità ha solo un motore diciamo però vediamo di farcelo bastare oh non ti alzare però ok attenzione qua l'ultima parte di pista proprio stronza oh eh l'ho visto sei entrato a 80 km orari più di me come volevi stare in piedi porca vacca eh mi ha fatto perdere un sacco di tempo dal primo quello lì mannaggia perché noi eravamo giusti che boia che scivolone che a frenare era troppo veloce era troppo non so neanche se mi abbia sfiorato ma non credo mi è sembrata proprio una chiusura del suo anteriore perché ha frenato era troppo veloce per entrare lì se guarda questo allora il primo non lo prendiamo più qua c'è una moto come la nostra me sa quindi è forte merda che ci lancia il duello per la oh ebbè è un altro deficiente ma che cazzo ma siete proprio stupidi niente scherzavo ragazzi ce n'è un'altra nuovo concorrente vediamo questo che cazzo fa ogni volta che qualcuno viene a superarci fa fa una stronzata fa lo so curioso no veramente bellissimi sei ribigliati ma che sono sti sorpassi bello proprio c'è una barriera virtuale davanti a unirossi chi prova a superarlo si fa del male occhio qua andiamo dentro puliti noi non pensiamo agli attacchi terroristici di quelli dietro ok attenzione qui c'è un altro giro dopo questo ma purtroppo a causa di ste sventure il primo è andato ahia eh calla mo tocca a questo qua no eh no questo si è infilato bene oddio dai però questo qua proviamo a combatterlo ma che è un coreano sì è un coreano sì pure questa è un'altra Honda VTR allora va sta Honda del cazzo non sono sicuro al 100% sul primo perché gli ho visto di sfuggita il faretto di coda però mi pareva uguale a questo in effetti mi pare che siamo a podio anche tutto sommato non c'è troppo da lamentarci e vabbè dispiace con i due no va bene cioè proprio vi voglio fare i complimenti vivi una porca puttana ma perché perché mi fate stavo vaffanculo guardate putto per terra vedetevi le va che testa di cazzo ero terzo giusto sono quarto ho fatto un paio di curve li ho presi tutti quello là non lo posso prendere mamma mia la gara dei terroristi abbiamo fatto qua ma che cazzo il trofeo Isis vabbè addio podio questo è il quarto posto no fallo essere il quarto posto però se no sei proprio stronzo ok ma pensa te ma pensa te sì ecco erano due VTR 1000 pensavo poi vabbè sto Sirianni del cazzo con sta Suzuki mi è passato perché l'imbecille beh vai siamo sotto attacco duro sì niente in pratica ne valsa niente ma non ho dato un cazzo ragazzi però vabbè speriamo di di esserci divertiti perlomeno chi terroristi vi do appuntamento alla prossima non ce la posso fare se ci penso bello sto gioco bello sempre però ecco vabbè ciao ragazzi un abbraccio un abbraccio un abbraccio Grazie.